Ciao Manuel, parlami del CML, parlami della ditta. Sono Manuel, figlio del proprietario della CML Engineering, siamo un'azienda che è nata a fine degli anni 50 nella provincia di Milano, siamo situati nella zona est di Milano. Ci piace, nonostante siamo un'azienda storica, già presente sul mercato italiano e internazionale, già da molti anni ci piace comunque sempre ritenerci un'azienda giovane, sempre pronta ad essere al passo con le nuove necessità e tutte le richieste dei nostri clienti. Il nostro simbolo raffigurativo è il castoro, perché è un animale che deriva dalla natura, che tratta sempre il legno, per cui lo abbiamo scelto come nostra raffigurazione, perché i nostri macchinari devono continuare a lavorare, macinare e trucciolare legno, generare segatura. Noi siamo un'azienda che può, a livello di gamma prodotti, soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti perché gestiamo oltre 60 tipologie di modelli differenti, quindi andando a spaziare dalla piccola impresa che ha piccole necessità produttive, anche grandi macchinari con ampie capacità produttive, capaci di lavorare per tre turni lavorativi per giorno. Vi volevo far presentare i due macchinari che abbiamo esposto alla nostra fila di Milano, abbiamo deciso di presentare questi due modelli di macchina che rappresentano un po' i vantaggi che generano la nostra gamma prodotti, perché noi spaziamo, come dicevo prima, dal modello più piccolo a quello più grande. In questo caso noi siamo davanti alla E350, un macchinario che sta avendo davvero tanto successo nel mercato americano, è un macchinario per aziende di piccole dimensioni che necessitano di tanta flessibilità. La particolarità di questo macchinario è che, come tanti altri macchinari dotati di lame mobili, può essere trasformato anche in una multilame, quindi da un macchinario con lame mobili passiamo a un macchinario con lami fisse. Questo sempre per far capire quanto ci teniamo sempre a secondare e ad avere rapporto col cliente, perché la cosa su cui puntiamo di più è cercare sempre di capire le necessità del nostro cliente, perché oltre ad accontentarlo e far sì che lui riesca a soddisfare a sua volta i suoi clienti, ogni punto di confronto con i nostri clienti è un punto di crescita, oltre che per i nostri macchinari, anche per noi, perché acquisiamo sempre più know-how e capiamo tutte le richieste che sono appunto richieste, perdonatemi il gioco di parole, dal mercato internazionale riguardante il legno. E potete lavorare per il cliente, di fare più adatto per il cliente. Sì, in questo caso noi abbiamo presentato solamente due macchinari. CML, come dicevo prima, essendo sempre in fase di sviluppo e cercando di seguire sempre le esigenze del cliente, negli ultimi anni ha visto stravolgere ed ampliarsi la propria gramma di prodotti offerti sul mercato, in quanto siamo in continua evoluzione a livello di impiantistica, perché per cercare di agevolare gli operatori e avere meno incidenza di costi di risorse umane sull'impatto produttivo delle realtà aziendali, andiamo a cercare di ottimizzare il più possibile la gestione del tavolame, quindi sia in fase di entrata e in uscita macchina, andando a gestire quindi sia la movimentazione del prodotto grezzo, arrivando fino alla movimentazione e alla creazione di pacchi del prodotto finito dei nostri clienti. Ci muoviamo dalle E350 per spostarci sulla SCA 450. Questo qua è esattamente l'esempio della nostra azienda, perché la SCA 450 era un modello standard, poi siccome ci siamo confrontati con il nostro importante cliente tedesco, il quale ci ha fatto capire che sarebbe stato utile andare ad apportare dei piccoli dettagli aggiuntivi alla nostra versione, abbiamo seguito le richieste, ci siamo seduti a tavolino, abbiamo riscontrato che la richiesta era più che giustificata e abbiamo ampliato ad esempio sul macchinario che è questa qua, la SCA 450, montavamo un massimo di 4 lame mobili, ora siamo arrivati a montare un massimo di 6 lame mobili, che è un qualcosa non ancora presente sul mercato. Questo avete capito parlando con il cliente tedesco? Sempre parlando con il cliente, perché come dicevamo prima, noi puntiamo a creare un vero e proprio rapporto col cliente, perché come il cliente più si apre con noi spiegandoci le sue esigenze, più noi possiamo capirle e capire su quale macchinario indirizzarlo o tipologie di impianto ed eventualmente cercare di ampliare tutta già la gamma di optional presenti sui nostri macchinari, ampliarne per cercare di soddisfare un'eventuale nuova richiesta.